Il volontariato organizzato di protezione civile apporta al sistema nazionale professionalità, idee e valori. Beh, l'emergenza richiede sempre un lavoro di gruppo e una multiprofessionalità. Il volontariato rappresenta una risorsa organizzata e addestrata a disposizione del sistema paese, che opera in forte sinergia con gli altri corpi dello Stato ed in totale sicurezza. Ma ha anche un ruolo fondamentale nelle attività di prevenzione e rischi. È una risorsa anche importante per la varietà delle competenze che offre e per il livello di organizzazione. Seppur con identità ed ispirazioni tra le più diverse, raccoglie in sé il vero spirito di servizio civico. Per la sensibilità, per la comunità e per il proprio territorio. Il mondo di protezione civile, del volontariato di protezione civile nel futuro dovrà investire sempre in più sulla formazione e sull'addestramento. Sulla formazione congiunta, sul sviluppo ad esempio delle non-technical skills e lavorare anche sulla collaborazione tra associazioni e l'integrazione degli interventi. Per investire in comunicazione nei confronti sia della popolazione civile che delle amministrazioni pubbliche, in particolare quelle locali. Soprattutto per far capire che cos'è il sistema di protezione civile e quali sono i valori che muovono il volontariato. Investire sulla riconoscenza dei valori per rafforzare la solidità e la credibilità dei volontari, ma anche a crescerle nel cittadino.